Dopo il Veneto solo la Regione Marche ha legiferato oggi all'unanimità su una norma che praticamente va a disciplinare le aree idonee e non idonee ad ospitare impianti fotovoltaici e agrivoltaici. È una norma che da tempo avevamo in gestazione ma perché aspettavamo le linee guida, il decreto interministeriale del governo che da oramai quasi due anni deve arrivare e che non è arrivato. Quindi noi come Regione Marche per limitare anche lo sciacallaggio che stiamo vedendo sui territori di questi tipi di impianti per la quale non siamo contrari a prescindere ma naturalmente dovremo privilegiare i tetti dei capannoni, delle case o anche aree dismesse da oltre dieci anni e anche alcune aree idonee che comunque già il decreto ministeriale prevede. Bene, con questa norma noi mettiamo un freno allo sciacallaggio a cui stiamo assistendo da anni e permettiamo di dire le aree idonee e non idonee. Quindi preserviamo le bellezze della nostra Regione, dalle colline, quindi tutte le aree dove c'è un IGP, dove c'è una DOC, quindi aree coltivate. Noi siamo appunto per mettere questi pannelli fotovoltaici sopra i tetti e nelle aree che prevede già la legge nazionale come ad esempio le aree industriali piuttosto che le aree commerciali o le aree comunque edificabili. Sui terreni agricoli dove c'è una coltivazione noi le vogliamo preservare e con questa legge mettiamo un freno importante a questi tipi di impianti.